Riportare i confini dell'area protetta del Borsacchio agli storici 1.100 ettari è l'intento del progetto di legge di un emendamento presentati dai gruppi di opposizione in consiglio regionale. La maggioranza di centrodestra ha introdotto un emendamento alla legge di stabilità, hanno ricordato i consiglieri, che ha ridotto del 90% i confini della riserva naturale, azione che per le opposizioni non ha tenuto conto della volontà delle istituzioni locali e dei portatori di interesse. Due le proposte, un progetto di legge e un emendamento alla legge in discussione nelle commissioni, che è la strada più veloce. I due provvedimenti prevedono l'abrogazione dell'articolo 25 della liberazione legislativa, tornando così alla perimetrazione storica. Peraltro per le opposizioni anche la maggioranza su questo tema si è trovata divisa con il vicepresidente Imprudente, che aveva avviato la discussione, con il presidente della commissione agricoltura di Matteo e la Giunta, che hanno fatto approvare la norma che di fatto ha cancellato l'area protetta, hanno tuonato. Obiettivo delle opposizioni è dar voce alla popolazione e al comune di Roseto, che ha deliberato anche lui all'unanimità tale direzione. Vogliamo tornare indietro attraverso la presentazione di un progetto di legge specifico per azzerare l'emendamento approvato dalla maggioranza e tornare a discutere soprattutto con il comune di Roseto, che con una delibera approvata all'unanimità chiede di tornare indietro rispetto a questa riprenditazione del borsacchio. Abbiamo la necessità di avere la volontà da parte della Giunta Marsilio, il presidente e l'ex assessore Febbra hanno espresso la volontà di chiedere un tavolo specifico e già oggi in prima e quinta commissione è possibile accogliere un nostro emendamento che prevede appunto l'abolizione di quell'emendamento scellerato approvato la notte del bilancio.